Io intanto dico che come consuetudine per il nostro comune e per la nostra amministrazione noi teniamo questa conferenza stampa di fine anno con il bilancio annuale di previsione già approvato e questa è una cosa che pochi comuni in Italia ancora riescono a fare, grazie al lavoro di tutta l'amministrazione, dei vari organismi, perché sapete che poi il bilancio mette sotto pressione un po' tutta la macchina amministrativa, sempre pronta a rispondere alle esigenze ovviamente della Giunta e quindi dei nostri cittadini. Allora per quanto riguarda il bilancio diciamo il 2010 si apre con una certezza per la nostra cittadinanza che quella che il comune non metterà le mani in tasca e non andrà a pesare ulteriormente sui bilanci delle nostre famiglie, dei nostri lavoratori e delle nostre imprese. Ritengo che questo sia un obiettivo importantissimo che noi abbiamo voluto con forza centrare perché riteniamo che il compito del comune in questa particolare fase di difficoltà per tutti sia quello di non andare a gravare, ad aumentare il costo della vita delle nostre famiglie ma semmai far sì, cercare di farli uscire il più velocemente possibile con il minor danni possibile. Rispettando fra l'altro anche il patto di stabilità che ci evita per il 2010 tutta una serie di stringenze, di vincoli per quanto riguarda la gestione amministrativa. Comunque pur in presenza di un taglio delle risorse da parte del Governo centrale che si fa sentire sul nostro bilancio la Giunta, l'esecutivo non ha diciamo così focalizzato la propria attenzione solamente su questa fase contingente ma comunque è stato un po' stato anche un discorso, una programmazione, una politica di investimenti nel medio e lungo termine per cercare di ridare un certo slancio al nostro settore economico produttivo non dimenticando anche di valorizzare certi punti fondanti particolari del programma di legislatura che fra l'altro prima sottolineava anche il Sindaco quali ad esempio le energie rinnovabili, la tutela dell'ambiente, il consumo razionale del territorio, una certa riqualificazione urbana. Quindi dico che questo del 2010 è sì come abbiamo più volte detto e sottolineato un bilancio rigoroso, un bilancio austero, ben strutturato comunque solido per affrontare questo difficile anno speriamo tutti di transizione che non è comunque smettere, non evita, non rinuncia a volgere lo sguardo al futuro in maniera ottimistica e speranzosa. Per quanto riguarda invece l'assessorato dello sport noi partiamo da una certezza, da un punto fermo e cioè la nostra Giunta noi riteniamo che lo sport, cioè che tutti i soggetti diciamo così preposti a governare lo sport e fra questi ovviamente io ci faccio rientrare per forza di cose anche i comuni come il nostro devono avere come obiettivo quello non tanto di creare dei piccoli campioncini ma di valorizzare l'aspetto educativo diciamo così dell'attività sportiva perché lo sport comunque sia aiuta, abitua al rispetto delle regole, al rispetto degli altri, al rispetto di se stessi, agevola diciamo così una crescita in armonia con il proprio ambiente, aumenta l'integrazione, la socializzazione ed è in questo contesto che noi abbiamo inserito il rinnovo delle convenzioni comunali che quindi dal 2010 partono a regime con i vari operatori, le varie società e associazioni sportive che in questo modo avranno la possibilità di gestire direttamente i propri impianti lavorando e potendo con tranquillità e serenità cercare di raggiungere i propri obiettivi, i propri scopi sociali, dando la possibilità a tutti i cittadini che lo vogliono di praticare in sicurezza la propria attività, la propria disciplina sportiva e dando la possibilità anche al comune di distribuire e comunque di utilizzare in maniera più razionale le proprie risorse. Fra l'altro il 2010 sarà un anno diciamo così particolare anche perché come il sindaco ricordava circa metà anno la nuova piscina comunale coperta sarà consegnata alla cittadinanza, una piscina che fra l'altro si va a inserire in un polo sportivo di tutto rispetto perché poi lì abbiamo a parte la piscina coperta adiacente a quell'altra all'aperto quindi comunicazione fra di loro abbiamo lì i campi da tennis, lo stadio comunale, il palasport, il parco Ragneri per le gare di ciclocross quindi dei percorsi verdi. Diciamo che non dimenticandoci poi anche del campo di gara sportivo internazionale di pesca che è in lista per organizzare le Olimpiadi nel 2011 quindi diciamo che sotto l'aspetto degli impianti il nostro comune sta assumendo una dimensione e un'importanza che sicuramente va fuori dalla nostra regione che dovremmo e dobbiamo essere bravi anche a sfruttare e utilizzare per far conoscere e promuovere il nostro territorio a vantaggio di tutto poi l'indotto, non solamente quello sportivo ma tutto l'indotto economico produttivo qui della zona. Ovviamente l'attenzione poi del comune è particolare, molto forte nei confronti di quelle società e associazioni che hanno un vivaio quindi dei giovani in questo contesto e poi chiudo si inserisce anche il discorso sul tavolo dello sport di questo strumento da poco nato che ha avuto anche fra l'altro il plauso dell'assessore Rometti perché è un'iniziativa regionale che abbiamo diciamo avviato, inaugurato noi qui a Dunbertide e che non deve secondo me essere solamente come dire un pensatoio ricurvo su se stesso ma dovrà dare e comunque proporre delle soluzioni, delle iniziative affinché i nostri giovani a cui tutti teniamo ovviamente in modo particolare possono praticare lo sport in maniera sana, sicura con dei anche operatori competenti e professionali.